Augusta, donna scippata del proprio cellulare, i carabinieri arrestano un rapinatore. La richiesta di aiuto è prevenuta dal numero unico d'emergenza 112 e rapidamente una pattuglia di carabinieri della stazione di Augusta è intervenuta in pieno centro cittadino dove una donna nella senata di ieri è stata scippata del proprio cellulare da parte di un pregiudicato del luogo. La malcapitata nel tentativo di proteggere il telefonino ha accennato ad una reazione ma l'uomo anziché desistere dopo averla minacciata di morte l'ha aggredita. I carabinieri intervenuti hanno rintracciato il pregiudicato, un 36enne megarese, nelle vicinanze della sua abitazione con il cellulare sottratto alla malcapitata. L'uomo è stato arrestato per rapina e condotto al carcere di Siracusa. La vittima invece è stata medicata al pronto soccorso dell'ospedale Muscatello.